Basta alla disparità di trattamento tra edilizia pubblica e privata. I costruttori edili altoatesini lanciano alla politica locale una serie di proposte per riequilibrare il mercato della casa. La politica abitativa altoatesina è stata per decenni orientata a garantire un rapporto equilibrato tra edilizia privata e agevolata. Secondo il collegio dei costruttori edili però negli ultimi anni questo equilibrio si è andato sempre più disperdendo. L'introduzione del convenzionamento senza limiti di tempo rappresenta un'ingerenza che per i costruttori è illecita nel diritto di proprietà privata e essendo l'edilizia abitativa agevolata, soggetta a un vincolo sociale soltanto di 20 anni, tale differenza di trattamento non trova ragione d'essere. La problematica è stata messa in evidenza nel corso di una conferenza stampa in cui sono state esposte alcune proposte per ristabilire l'equilibrio tra edilizia pubblica e privata. Il nostro concetto verte soprattutto sul fatto che deve esserci un accesso ai terreni paritario, cioè un po' tutti i soggetti che operano sul mercato devono avere la possibilità di accedere all'acquisto del terreno alle stesse condizioni. Anche per quanto riguarda il mercato delle locazioni ci potrebbe essere una spinta in quanto chiaramente acquistando il terreno a un prezzo più contenuto c'è la possibilità per un investitore di provvedere ad acquistare degli immobili che poi potrebbero essere messi sul mercato delle locazioni a dei canoni sicuramente più adeguati rispetto a quelli attuali. Un terzo punto sicuramente molto molto importante è questo concetto dei mille alloggi, questo concetto appunto che la provincia sta elaborando. Non siamo contrari al 100% però non è sicuramente la soluzione definitiva al problema del ceto medio. La domanda che rimane aperta è cosa succede col mille e unesimo. Sempre secondo i costruttori edili, attualmente tra l'80% e il 100% dei nuovi terreni messi a disposizione sono destinati all'edilizia agevolata. L'obiettivo dell'iniziativa illustrata agli organi di informazione è di garantire a tutti gli altotesini un'abitazione a prezzi accessibili e rilanciare il mercato degli affitti in provincia di Bolzano.